Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ame. Glorioso San Rocco, che morendo hai chiesto al Signore il singolare privilegio di vedere esaudite le preghiere di coloro che si rivolgono a te, volgi il tuo sguardo su di noi, che siamo piegati nell'anima e nel corpo. Concedici la guarigione fisica e spirituale. Allontana dal nostro paese ogni forma di contagio. Liberaci dal nostro egoismo, perché liberi dai beni terreni. Sul tuo esempio possiamo metterli a servizio dei poveri ed essere annoverati tra gli amici di Dio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame.